Vi presento il Transalp 60 Lady. Ha una capienza di 60 litri e un peso di 2,35 kg. Si tratta di un robusto zaino da trekking con la speciale sagomatura e imbottitura differenziata sugli spallacci e sulla cintura vita, adatto ovviamente alla conformazione femminile. Il sistema Double Ergo Adjustment permette di modificare la distanza tra gli spallacci e la cintura vita. Una doppia armatura in alluminio modellabile ha la finalità di robustire il dorso. L'utilizzatore deve considerare che la lunghezza riferita alla sua taglia è la distanza tra la vertebra C7 e l'anca. Si può prendere il materiale inserito nella parte centrale ed inferiore dello zaino mediante due aperture esterne, senza aprire il cappuccio e dover svuotare lo zaino. Il Transalp ha un sistema di tasche esterne per l'ottimale organizzazione del carico. Due frontali, due laterali, tre sul cappuccio e due sulla fascia vita. Il doppio porta bastoncini frontale è costituita da un'asola in nastro regolabile e da un elastico. Il Transalp è dotato di copri zaino impermeabile inserito sul fondo. In caso di pioggia si estrae e lo copre in tutte le sue parti. Il sistema di nastri amovibili inseriti nella tasca del cappuccio permette di trasportare materiale sul fondo dello zaino aumentando la capacità di carico.